12 e 33 minuti in questo istante di oggi martedì 22 maggio benvenuti in diretta qui con la nuova puntata di Good Morning Milano oggi è martedì, martedì per noi significa consulta periferie Milano, focus periferie, significa Walter Cherubini buongiorno Walter, buongiorno ben ritrovati diciamolo è la 42esima puntata 42esima puntata in compagnia di Walter e Walter chi ci ha portato questa settimana? oggi abbiamo Luigi Andreoli che è presidente dell'associazione Amici dai nostri quartieri dai nostri quartieri che è un periodico che è data dal 1975 circa e quindi ha una lunghissima tradizione e resistenza e diciamo pure è testimone di quelle realtà associative che ma ci sono, non ci sono, muoiono, vive, nascono da oltre 40 anni esiste dai nostri quartieri e noi diamo il benvenuto appunto Luigi Androni, buongiorno, benvenuto, grazie mille di essere qui con noi oggi associazione dai nostri quartieri, insomma già il nome è interessante perché appunto fa proprio sentire questa voce mi sembra di sentire una voce appunto che arriva no? da i nostri quartieri, quindi da tutti i quartieri esatto, era nata allora proprio per tenere in collegamento i cattolici della zona Allora 12 e per tenere questi collegamenti allora c'era prevalentemente il cartaccio si editava questo giornale periodico più o meno bimensile e poi ha continuato a svolgere questa sua attività fino alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90 si è costituita l'associazione come diciamo casa editrice, editore e per farla funzionare si è data una struttura all'altezza dei tempi con gli istituti previsti dalla legge e da allora appunto porta avanti questa finalità dell'associazione che sono sostanzialmente quelle di fare cultura e di fare attività politica ovviamente non partitica e di sviluppare tutte quelle iniziative che sono sentite sul territorio e per dire dare voce, comunicare, chiedere, informare ed essere noi voce di altre associazioni con cui siamo in relazione le nostre attività sono come quella che abbiamo fatto quest'anno un concerto per tipologie e programmi differenti e poi anche questo convegno che invece si spinge più che altro sull'ambiente che è un tema caro alla nostra associazione tant'è che già due anni e mezzo fa circa appena uscita la Audato Si ha fatto un primo convegno più tecnico sull'energia rinnovabile questo invece è un pochino più centrato sull'ambiente e sull'ambiente Focus Milano Polveri Sottili Ecco appunto, sull'ambiente, sul Polveri Sottili è proprio anche quello che state facendo in questo momento proprio con la vostra associazione state promuovendo un seminario come lo possiamo chiamare, un convegno sì, ecco, l'abbiamo voluto proprio perché abbiamo visto che se ne sono fatti parecchi all'inizio del mese di marzo a Milano però tutti ad alto livello con grandi personaggi ovviamente in sedi prestigiosi in Regione, Palazzo Mezzanotte e così via noi abbiamo ritenuto di poter portare questi stessi messaggi probabilmente un pochino meno alto suonanti ma i contenuti sono poi gli stessi in maniera tale che anche, non la periferia in senso, ecco ma che anche nella nostra zona che è una grossa zona, 170 circa mila abitanti possa avere l'opportunità di partecipare a queste nuove e non nuove tecniche e tecnologie orientate soprattutto in questo caso alla riduzione delle polveri sottili nel tentativo di metterci insieme insieme sono le parti interessate il Papa nella sua enciclica dice la politica e l'industria sono lontane da queste tematiche noi non vogliamo, è una bella presunzione di avvicinare più di tanto però di essere occasione di mettere a contatto questi operatori è molto interessante appunto che diceva si sono fatti tanti di convegni a Milano se ne parla su inquinamento con gli universitari se ne parla da sempre se ne parla sempre però nelle grandi alte sfere e si fa fatica magari a scendere per strada a parlare con i cittadini nei vari quartieri nonostante appunto siete scesi diciamo in strada e tutto non avete abbassato minimamente la qualità invece degli interventi perché vedo insomma assessori regionali assessori comunali ricercatori del CNR insomma gente comunque che ne sai deve rappresentare sul tema rappresentanti dell'industria perché e poi abbiamo invitato anche l'istituzione, la parte politica c'è la presidente del nostro municipio 3 proprio in veste tipicamente politica mentre invece poi ci sono gli assessori che sono una duplice veste anche con contenuti tecnici ecco ma insieme per noi vuole anche dire non da soli questa volta come abbiamo fatto in precedenza abbiamo anche l'associazione la consulta periferia Milano e abbiamo l'associazione Aldai Feder Manager che ha al suo interno delle commissioni, dei comitati che studiano specificatamente questi aspetti li dibattiamo frequentemente per cui anche il fare insieme come soggetti di comunicazione ma fare insieme anche come soggetti operatori perché da questo noi riteniamo possa esserci una migliore intesa nel scegliere valori comuni interessi comuni e non solo quelli specifici di ciascun settore o ambito produttivo o amministrativo il tema del inquinamento è un tema insomma che viene spesso parlato se ne parla tantissimo di solito nella fase invernale quando ci sono poi i callai accesi auto in strada si prospettano fermi del traffico giornate di targhe alterne di famosa memoria però è un tema insomma che in realtà bisogna riparare tutto l'anno una volta perché insomma i dati soprattutto che arrivano dalla città di Milano sono interessanti se non allarmanti allora diremmo due cose una una piccola precisazione dai nostri quartieri in particolare questa associazione questa testata mensile fa parte dell'area del municipio 3 e quindi vuol dire zona di Lambrate tanto per intenderci così per collocare geograficamente la cosa settimana scorsa avevamo qui sempre dall'est di Milano Santa Giulia cerchiamo di allargaccio un po' e quindi c'è una visione complessiva delle periferie della città e di tutto quello che viene animato dalla città come tema l'inquinamento atmosferico in particolare noi diciamo sempre non è un tema periferico no perché possiamo dire che va dall'estremo ovest della pianura padana fino all'estremo est della pianura padana come concentrazioni ugualmente avere una consapevolezza di abbiamo titolato un articolo pubblicato su un mensile polveri sottili non le vedi ma ti uccidono siamo stati un pochettino forti come affermazione ma è esattamente questo ma ti avvelenano non le vedi ma ti avvelenano allora è chiaro che anche i comportamenti che noi abbiamo sul territorio il nostro piccolo comportamento può influire ma un'attenzione può anche diciamo così a ripercuotersi su quelle che sono le scelte politiche cittadine noi abbiamo fatto una sottolineatura sulla ciclabilità di quartiere e facendo questa sottolineatura e anche una serie di iniziative e proposte sulle ciclabilità di quartiere che in primo luogo è per tutelare chi va in bicicletta per cui sul tema della sicurezza però è chiaro che se una città diventa sempre più ciclabile come abbiamo visto con il bike sharing se ci sono degli strumenti vengono anche utilizzati è chiaro che allora bisogna mettere gli strumenti e per esempio noi abbiamo fatto una piccola precisazione ci sono la riorganizzazione delle strade dove vengono individuati tutta una serie di parterre nuovi dove ci potrebbero stare tranquillamente delle piste ciclabili invece non vengono fatti ma sono cose recentissime ecco quindi sono esattamente è un approccio sistemico che bisogna avere è chiaro che se chi abita in un territorio non ha la consapevolezza o è distratto dell'inquinamento che poi lo uccide è chiaro che anche chi andrà a eleggere da una parte le associazioni che vorrà sostenere dall'altra non avranno a cuore questo tipo di tema e quindi ben volentieri abbiamo partecipato a questa a sostenere questa iniziativa dell'associazione Mischi dei nostri quartieri ecco Luigi ti chiedo se ci puoi raccontare un po' meglio quello che andremo a vedere all'interno del convegno e capire anche se magari avete già delle piccole soluzioni forse chiamare le soluzioni forse un po' troppo però delle piccole ricette per migliorare la situazione partiamo sempre da quel motivo che è conduttore e che è stato quello che ci ha spinto e cioè è l'insieme la stessa composizione dei relatori dei soggetti che verranno a dare il loro contributo ecco ci consente di dire che noi non abbiamo la veleità di risolvere alcun problema ma di tentare di dare una mano questo sì ci sarà l'assessore che ho già sentito tante altre volte e che illustrerà il piano della mobilità sostenibile e l'obiettivo al 2030 delle autovetture pullman elettrici e questo credo che per Milano sia la soluzione migliore nel senso che si evita la combustione almeno per quanto riguarda i medi pubblici noi vogliamo che con questo concetto di insieme il comune ci dia la possibilità di aiutare anche i cittadini a dare il loro contributo con il mezzo che sarà senz'altro anche nei decenni futuri sempre più elettrico ma nell'immediato non si può pensare sperare di fare tabula rasa di tutti i motori a combustione ecco allora noi pensiamo a quello che da per ora minor apporto direi che per quanto riguarda le polvere sottili il carburante metano sia totalmente assente per cui questo è già un primo passo metano meglio ancora del gpl quindi dal punto di vista delle meglio per quanto riguarda le emissioni le emissioni di polveri sottili siamo lì ecco forse siamo lì non c'è una differenza sensibile sostanziale ecco allora noi però abbiamo bisogno di attrezzare scusate di attrezzare anche il territorio affinché il contributo venga anche dai automobili normali voglio dire per cui si dice che bisognerà prima o poi arrivare alla decisione di eliminare il DISE che è quello più inquinante non solo per le polveri sottili ecco la nostra proposta è appunto questa qua che il comune ci aiuti a favorire noi associazioni o altri operatori a dare la possibilità anche ai cittadini di avere un carburante meno inquinante almeno per quanto riguarda la polveri sottili nella nostra zona c'era un bel distributore che è stato chiuso vent'anni fa non è più stato sostituito ne proponiamo uno lì nelle vicinanze io ho esperienza di queste cose come azienda in passato so che cosa vuol dire costruirlo so cosa vuol dire avviarlo so quanti sono i tempi che necessitano se ci sono i plagi quindi è possibile farlo è possibile e il metano in fine dei conti ha tre grossi vantaggi non inquina come polveri è sicuro perché è sicuro diciamolo perché questa è una delle cose che uno dice metto una bomba una bomba perché l'idea è quella di mettersi la bomba del gas di casa in macchina non è così appunto e una pompa di benzina o una pompa di metano non so se si chiama pompa di metano essenzialmente forse è più sicuro la pompa di metano rispetto a quella di benzina ormai con tutti i controlli che si fanno posso dire che una bombola a bordo della macchina a metano è impenetrabile non può scoppiare assolutamente non c'è letteratura in letteratura alcun caso di scoppio di bombola può esserci qualche disguido come per tutti gli impianti che hanno combustione ma non mai per quanto riguarda l'impianto a metano ecco questo obiettivo noi pensiamo che si possa raggiungere con poi dimenticavo scusate il terzo vantaggio è che è economico costa meno della metà del carburante liquido ecco tornando invece alla possibilità di favorire questo sviluppo un'occasione è quella di se si riesce nel breve periodo di avere la realizzazione di un impianto anche per gli autobus non è per far concorrenza ho già detto che sono favorevole al mezzo elettrico ecco solo che da qui al 30 ci può essere lo spazio perché nel far le cose in comune insieme a favore anche della mobilità pubblica si riesce ad avviare un processo virtuoso che favorisca anche lo sviluppo del mezzo privato a metano anche un punto che vedevo nel nel programma del convegno parlarete appunto di ricerca di quello che si potrà fare quindi di proposte reali anche proprio per la zona in quel caso appunto di un distributore di metano che potrebbe aiutare quindi anche a sviluppare poi il diffondersi di auto a metano che sappiamo essere sempre un po' il problema di dire ci sono pochi distributori e tutto quindi invece anzi più ce ne sono più la gente si è convinta ma vedo che parlarete anche di trasporto pesante di come poter aiutare insomma il problema c'è rimane spesso in una città come Milano poi ma nei grandi eventi di inizio mese di marzo c'erano anche i grandi produttori europei di mezzi pesanti oramai il mezzo il motore il trattore a metano non ha nessuna deficienza rispetto ad altri la potenza ormai è la stessa e ci sono programmi immagino fare un pieno di metano un pieno di gasolio un tiro la differenza la sente poi economicamente parlando ma io vedo anche autobus cioè camion che vengono a rifonessi di metano sono addirittura camion diesel che con una tecnica particolare una semplice centralina possono funzionare anche a metano al 75% con i 75% e ne ho visto uno settimana scorsa a Milano un camioncino di quelli delle imprese che addirittura si vantava di essere bifue e andava a gasolio e a gpl questa è una novità per me comunque per quanto riguarda allora lo sviluppo di questo settore noi facciamo leva su tempi brevi due anni al massimo anche meno per costruirlo dieci anni per poi raggiungere quell'obiettivo che è del comune voglio dire elettrico insisto su questo noi non vogliamo pensare e sostenere altre tesi vogliamo favorire lo sviluppo dell'uso del metano privato per cui quella ipotesi e anche per distributore che io ho fatto eseguire la mia azienda e che funziona a regime ecco e resta trovata proprio anche per il trasporto dei pulmai per cui invochiamo questo ecco questa attenzione ma il comune si è già manifestato sensibile negli anni passati per la costruzione di un impianto di questo tipo purtroppo la location non era adeguata e non c'era poi questo vantaggio invece di questa soluzione che è già stata verificata con un prestudio di infattibilità che sarebbe in grado di garantire su percorsi stradali ad alta intensità di traffico in una zona quasi centrale a Milano di avere questa grossa opportunità faremo vedere nelle slide che verranno proiettate che addirittura questo distributore costruito 15-20 anni fa è a 20 metri 30 dalle case non dà fastidio nella zona che così si ipotizza le case sono anche molto più lontane c'è spazio verde ma soprattutto ci sono grandi assi viali il viale Palmanola il viale Padua il viale Monza è in quella zona dove esisteva in via Stamira d'Ancona fino a 20 anni fa questo distributore ecco Valt insomma le soluzioni come sempre le soluzioni ci sono se troviamo sempre forse è la fortuna Valt di trovare solo noi queste persone che vengono qua ci danno delle soluzioni delle prospettive e questa fortuna non ce l'hanno nei grandi ai piani alti di chi deve decidere forse mi viene da dire siamo fortunati noi Walter è questa è solo qui io dico che è fortunato a Milano perché a Milano come al solito lo dicevamo più volte c'è tutto il problema è che non si riesce a fare il sistema essere a conoscenza poi uno potrebbe dire a me non piace il metano a me non piace quello quell'altro quell'altro però è chiaro che ci sono anche tutta una serie di interessi piuttosto pregnanti su questi argomenti sulla mobilità su che cosa mettere per far andare avanti i mezzi e anche quali mezzi è chiaro che ci vuole una visione d'assieme una visione d'assieme dove i temi che Andreoli approfondiva adesso probabilmente sono molto distanti da quello che è il nostro colloquiare normale perché sono problemi di nicchia ma sono problemi di nicchia che non riguardano quelli che hanno gli piace giocare gli scacchi sono problemi di nicchia che rimangono nella nicchia ma che riguardano tutti quanti questo qui è uno del problema il secondo problema è quello della infrastrutturazione della città perché o noi abbiamo una visione complessiva delle cose e quindi anche la logistica dove mettere questi questi servizi pensarli in una logica cittadina perché se noi ne mettiamo uno da una parte e poi finiamo lì noi non abbiamo risolto assolutamente niente ho in mente tempo addietro dove venne inaugurato un distributore non mi ricordo se di metano o di che cosa in pompa magna però era da quello che sono state riportate poi all'immagine un falso nel senso che è stato lanciato lì ma poi è stato sbaraccato tutto allora questo qui non è un modo di fare infrastrutturazione in secondo luogo non si utilizzano nemmeno le possibilità che ci sono adesso una piccola banalità ma non tanto per esempio per chi non abita dalla parte est di Milano ma abita dalla parte ovest di Milano è per esempio legato all'afflusso lo stadio San Siro c'è stata l'ultima partita del campionato ma per esempio inizia tutta la stagione dei concerti sì allora noi abbiamo a poca distanza dallo stadio San Siro soprattutto per chi viene da fuori Milano perché i concerti non sono una questione milanese vengono da tutta Italia e quando vengono da tutta Italia per esempio chi viene con mezzi propri non sa dove depositare le proprie auto allora noi abbiamo esattamente l'imitro farà tangenziale in località Figino anche se poi è stato denominato treno il parcheggio che era stato costruito ai tempi per i mondiali del 1990 non era mai stato sostanzialmente utilizzato per questa funzione quindi in funzione stadio con l'Expo è stato utilizzato rimettendolo tutto a nuovo a circa 1500 posti auto è stato utilizzato per sei mesi in funzione dell'Expo sulla via Novara dopodiché da primo novembre del 2015 è inutilizzato o meglio è custodito anche è illuminato non è stato utilizzato fino a qualche giorno fa diciamo qualche mese qualche settimana fa dove ci hanno messo depositato i bar colleghiate che erano sul naviglio che peraltro occupano uno spazio abbastanza risolto ma Walter non sei contento di avere un pezzo di naviglio in zona San Siro non avessere pensato no? eh no anche se la nostra area ha tantissimi tantissimi percorsi di acqua perché Milano è piena d'acqua allora questo qui è il tema cioè noi da una parte non ragioniamo in termini molto spesso di infrastrutturazione ma lo dicono quelli che sono del mestiere che purtroppo ci sono tutte una serie di scelte che si scombinano e non si combinano quindi in secondo luogo abbiamo già degli strumenti che non utilizziamo questo è il tema certo utilizzare fa anche fatica per certi aspetti vuol dire che uno comincia a dire che io devo pensare lì a portare i flussi delle auto che tutto sommato ci sono ecco questo è il tema utilizziamo quelle che sono le disponibilità attuali l'ipotesi che faceva adesso in questo convegno che verrà un pochettino lanciata ebbene dobbiamo arrivare al 2030 ma intanto che aspettiamo il 2030 possono essere fatte tutta una serie di cose utili ne parliamo e vediamo che cosa viene fuori ma ecco l'importante è che anche venga socializzata questo tipo di informazione perché altrimenti è un problema dell'inverno e poi ci aggiorniamo al prossimo inverno allora siamo quasi in chiusura Luigi ti chiederei se ci puoi dare le coordinate per il convegno come fare ad arrivare quando tutti gli orari quello che c'è da sapere come si può fare avere tutte le informazioni anche sul punto dei nostri quartieri la sede è via Varvasori Peroni ed è l'auditorium è a circa 400 metri dalla stazione metropolitana di Lambrate poi ci sono linee tramviarie e autobus ma quella più diciamo facile per chi viene da fuori zona o fuori dalla nostra realtà è la metropolitana ecco è facilmente accessibile ovviamente anche dalla autostrada per chi avesse questa modalità di avvicinamento perché c'era tangenziale lì vicino ecco che ora inizia il tutto il 24 maggio inizia alle 9 abbiamo una lunga serie di interventi e gradiremmo che si potessero esaurire tutti gli argomenti anche perché la composizione degli oratori è molto varia ad esempio ci tengo a far presente adesso che ci sono ben due istituti tecnici della nostra zona che hanno fatto delle ricerche e gli studenti verranno a relazionare sull'esito delle loro ricerche per cui pensiamo ai giovani dicendo guardate che state lavorando per voi e per il vostro futuro ecco così come parlando di futuro ci sarà anche una parte tecnologica riguardo a ad esempio il metano ci sarà chi illustrerà come con il metano liquido in spazi che sono un seicentesimo di quello volumetrico si possono avere quantità notevole di energia a disposizione e il camion può andare in giro per centinaia e centinaia e migliaia di chilometri con poco più di un piccolo serbatoio di metano liquido questo è la prospettiva del futuro può darsi che prima o poi si arrivi a utilizzare questa metodologia anche in realtà cittadine di una certa rilevanza quindi per riassumere giovedì 24 maggio 2018 alle ore 9 è l'auditorium di via Valvassori Peroni al numero 56 che è dove c'è anche la biblioteca Valvassori Peroni quindi è attaccato alla biblioteca questo come data per quanto riguarda poi qualche diciamo coriore sì prospettiva futura anzi qualche appuntamento futuro sottolineiamo alcuni aspetti musicali e quindi venerdì sabato domenica ci saranno una serie di concerti in alcune chiese di Milano in particolare potete trovare i riferimenti comunque complessivi sia delle rassegne concerti in periferia sia per nutrire l'anima e anche cori Milano sul sito periferiemilano.com ecco vogliamo nell'occasione anche segnalare che all'interno di a scuola di periferie ci trasferiremo meglio consolideremo maggiormente una presenza in quel di Niguarda con il titolo test Niguarda per le periferie a partire dal 31 di maggio alla sera presso il centro culturale della cooperativa in via Armada 14 dove ci sarà la prima tappa di un percorso proprio perché Niguarda è stato scelto come quartiere grazie a una sollecitazione di Confcommercio per fare un ragionamento più specifico su un'ipotesi di quartiere delle periferie quindi vedere un po' come puoi esportarlo negli altri 100 quartieri della periferia milanese perfetto allora direi che abbiamo detto tutto oggi abbiamo detto tutto io ringrazio tantissimo Luigi Anderoli dell'associazione dai nostri quartieri grazie davvero ricordiamo che c'è anche comunque ancora il mensile o come è adesso un bimestrale 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 dai nostri quartieri che parla appunto un focus sulla zona 3 ma mai da quanto ho capito spazia a livello cittadino insomma lo trovate dove lo sto non si trova non si trova nei centri sociali nelle luoghi di aggregazione pubblica parrocchie se siete del municipio 3 lo troverete sicuramente in giro sotto casa mi viene da dire io davvero grazie mille per essere stati con noi ci vediamo il 24 maggio alle ore 9 in via Vassori Peroni per il convegno Polveri Sottili insieme possiamo ridurle grazie mille anche a te Walter grazie a voi ci vediamo martedì prossimo grazie certamente grazie a tutti voi che ci avete seguito l'appuntamento come sempre rimandato oggi pomeriggio alle ore 18 con l'informazione edizione della sera di Milano all news e Good Morning Milano torniamo invece domani alle 12.30 sempre qui in diretta con voi grazie mille arrivederci a presto